questo webinar mi piace pensarlo come un vero e proprio kit di sopravvivenza per gli insegnanti vedremo non uno ma ben tre elementi cruciali del tuo rapporto con gli alunni e del tuo rapporto con la didattica del tuo rapporto con l'insegnamento vedendo quali sono gli elementi di questi tre fattori che possono essere modificati per migliorare la qualità della tua didattica e del tuo vissuto all'interno della classe gli aspetti comunicativi quindi tutti quegli aspetti legati al modo di non soltanto parlare ma comunicare quindi trasmettere relazionarsi con i tuoi alunni e con i genitori di alunni come poter migliorare la didattica e creare una didattica che sia più centrata sui reali bisogni necessità ed elementi chiave che focalizzano l'attenzione degli alunni la strategia cioè tutti quegli aspetti operativi che possono essere inseriti all'interno della classe della tua didattica per migliorare il rapporto con i tuoi alunni per diminuire il numero di comportamenti problematici e quindi riuscire a lavorare in un contesto di classe migliore inteso sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista attentivo dei tuoi alunni grazie a tutti grazie a tutti